Allora, intanto, scusate, qui stasera ragazzi, il Presidente, no silenzio, facciamo il silenzio. Mi dispiace, non avvenceremo il nuovo acquisto del Bari. Se non fate silenzio non possiamo dare la rinuncia. Scusate, si chiedono farete silenzio, non avvenceremo il nuovo acquisto del Bari, signori. Facciamo il silenzio. Perché stasera, signori, io vi ho parlato di un nuovo cassano, di un nuovo astro, scusate. Saccate la pina, vedete, è dietro, c'è un interruttore, scendetelo. Dobbiamo dare una luce importante e dopo la facciamo cantare tutto il tempo che vuole. Allora, l'abbiamo spento, abbiamo staccato l'interruttore del signore. Quindi adesso, attenzione, signori, questa sera il Presidente Vincenzo Maternese ha deciso di venire qui per annunciare il nuovo acquisto del Bari, signori. Abbiamo stasera il nuovo allegatore del Bari, signori. Perché Conte se ne va? Ed eccolo qui, in diretta, Pasquale Carbonara. Come on, come on, come on, come on.